Un bellissimo successo esterno. Avete rischiato, lo commentavamo con il tecnico, con Oliverani, fin troppo perché per larghi tratti avete dominato la scena. Ma il mister è sempre un po' negativo quando analizza le partite. Io credo che rischiare e concedere qualcosina in casa della Salernitana ci possa anche stare. Credo che nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo dominato il lungo e il largo a livello calcistico questa partita. Normale che poi sul 2-0, il secondo tempo, quando rientri, loro cercano di innalzare il loro baricentro e noi comunque cercavamo di ripartirli per farli male. Abbiamo sbagliato sicuramente a livello di personalità sotto il profilo del gioco, però è normale anche che dopo un primo tempo dispendioso come quello che abbiamo fatto qualcosa potevamo concedere. Dopo tutte le voci di mercato che ti hanno interessato, hai dimostrato anche durante la partita di Benevento di essere al di sopra di tutto questo e che Lucioni è una garanzia. Ma stasera c'è stato anche un duello importante con Bocaron, abbiamo visto nel finale. C'è stato un piccolo screzio con Bocaron terminato subito con una grande stretta di mano perché comunque il rispetto in campo è la cosa che conta di più. Sì, diciamo che non era solo una voce di mercato, era una trattativa che alla fine la società ha ritenuto opportuno per il proseguito del campione del Lecce rifiutare. Io mentalmente sono libero da queste voci perché comunque se ne è occupato il mio procuratore. È normale che fanno piacere questi attestati di stima da parte di De Zerbi e del Sassuolo, però sono un giocatore del Lecce e cerco di dare il mio contributo quotidiano perché poi il risultato delle gare è il lavoro quotidiano e cerco di dare il massimo affinché i risultati possano arrivare. Ti chiedo la cortesia dell'auricolare per alcune domande da studio, Sonia Lantella e Luca Esposito. Fabio, ciao! Allora, un Lecce che non si ferma, un Lecce che si dimostra ancora più forte in trasferta rispetto alle Muramiche, che insomma può essere un po' il Benevento di due anni fa? Me lo auguro, Sonia, veramente, me lo auguro. I colori sono quelli, le pressioni che non ci sono rispecchiano un po' quelle che era il Benevento di qualche anno fa. Mi auguro che comunque riusciamo a mantenere questo ruolino di marcia e toglierci delle grandi soddisfazioni perché credo che sotto il punto di vista del gioco questa sia una squadra che esprime veramente un bel gioco. Poi è normale che c'è da crescere, c'è da migliorare tanto, però secondo me si sta facendo un buon lavoro. Mi piacere tornare a casa, visto che Benevento ormai è casa tua, no? Sei d'adozione. Sì, 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 ma sì, quello assolutamente. Io sono residente a Benevento, tutti lo sanno, insomma, quindi non c'è da nascondere nulla, assolutamente. Luca. Ciao Fabio, complimenti anche da parte mia. Oggi grande prestazione. Allora, la mia domanda è questa. Più demeriti della Selenitano o più meriti del Lecce oggi? E poi sul mercato, tu hai parlato prima di De Zerbi, cosa vi siete dette al telefono con De Zerbi, se ce lo vuoi dire? Guarda, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti che fanno sempre piacere. Io credo che noi oggi abbiamo interpretato nel migliore di modi questa gara, soprattutto nel primo tempo. Poi loro hanno cercato di metterci il cuore oltre l'ostacolo, però credo che abbiamo trovato un Lecce organizzato davanti a loro. Per l'altra domanda ti dico che il mister mi ha chiesto se ero disposto ad andare a dare una mano dove avevano delle piccole lagune, secondo lui. Io mi ero messo a disposizione, però è normale che l'ultima parola ce l'ha la società e sono veramente sereno e tranquillo per non essere andato, insomma.